Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. È morto cadendo dal secondo piano della casa in cui viveva con i genitori, forse scivolato dal tetto dove era salito per cercare il gatto, è accaduto a filetto. Piccolo centro in provincia di Chieti, la vittima è il ventenne Michele Di Loreto, studente universitario. Il giovane era alla ricerca del gatto scomparso da diverse ore. Poi la caduta chi non ha dato scampo al giovane. A fare la terribile scoperta è stata la mamma del ragazzo che lo ha trovato esanime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, anche con l'eliso corso, ma per il povero giovane non c'era più nulla a fare. Il corpo è stato portato all'obitorio di Chieti dove verrà fatta l'autopsia, per capire se la caduta sia stata dovuta da un malore improvviso del giovane.